Lo sciopero è stato ampiamente partecipato, io credo che ci potremmo attestare su una percentuale che oscilla tra l'80 e il 90%. Abbiamo tutte le 11 sedi museali chiuse ad eccezione di una parte del Palazzo Ducale dove ci risulta entrare a spizziche e bocconi la gente con intervalli di 15 minuti. Da due giorni i musei civici di Venezia sono chiusi per sciopero, uno sciopero che fa notizia per lunghezza e per adesione e anche perché cade in un periodo estremamente intenso dal punto di vista turistico. Una stensione dal lavoro di queste proporzioni non si vedeva da quasi 20 anni, ma allora il problema era il rinnovo di un contratto nazionale. Ora la questione è strettamente locale, i lavoratori chiedono alla Fondazione Musei Civici tutele e garanzie per il prossimo cambio di appalto. La garanzia del mantenimento del posto di lavoro ha le stesse condizioni occupazionali, normative, contrattuali ed economiche, quindi senza riduzione di orario di lavoro. Che ci venga mantenuto il nostro contratto di lavoro individuale con tutta la tutela piena dell'articolo 18 e quindi chiediamo che non ci venga applicato il Job Act. Altre richieste riguardano il contrasto al lavoro volontario e al lavoro precario. Ad essere coinvolte sono oltre 400 persone, tra biglietterie, addetti alle biblioteche, dipendenti di bookshop e caffetterie e naturalmente guardasala. Gli impiegati del settore si erano anche uniti ai dipendenti comunali in una manifestazione di protesta a Cafarsetti, giunta fino alla sala del Consiglio Comunale. A chi obietta che chiudendo i musei abbiano recato un danno d'immagine alla città di Venezia rispondono così. Verrebbe da chiedersi quale tipo di città abbiamo in testa quando ci viene rivolta questa domanda. Tutelare dei diritti, tutelare una parte che è fondamentale perché non c'è neanche il futuro dei nostri figli e di tutte le generazioni che verranno dopo di noi, significa secondo me tutelare anche una parte della città che è fondamentale in questo caso.